Per tutti i giovani della diocesi di Fano Fossombrone Caglipergola ritorna anche quest'anno il campo missionario diocesano. L'appuntamento in programma dal 21 al 27 luglio si pone l'obiettivo di far vivere ai giovani della chiesa diocesana una settimana alla riscoperta della fede, una settimana in cui lavorare per aiutare chi è bisognoso e più lontano, una settimana per incontrare l'altro per riscoprire la gioia della propria fede e farne dono a chi si incontra per la strada e nel proprio quotidiano una volta tornati ciascuno nella propria vita giornaliera. I ragazzi si incontreranno prima al prelato di Fano il 21 luglio dove inizieranno a conoscersi per poi spostarsi nei giorni successivi in cinque diverse parrocchie. Lunedì a Pianello di Ostra, Dancona, martedì San Michele al Fiume, mercoledì sarà Sant'Abbondio e Frontone, giovedì Torrette e venerdì Rosciano di Fano. Scelto anche il tema di questa edizione. Il tema del campo di quest'anno è preso dal messaggio di Papa Francesco per la 98esima giornata missionaria mondiale che è andate e invitate al banchetto tutti che noi abbiamo ritradotto in vieni, vedi, parti e riparti che per noi significa vieni a vivere una bella esperienza e riportala alla tua comunità. Invitiamo tutti i giovani della diocesi dai 16 anni in su che hanno piacere di partecipare al campo a iscriversi e possono farlo compilando il forno di Google che trovano al link sul nostro sito cmdfano.it o sui nostri canali social. Come sempre saranno tre i momenti che caratterizzeranno ogni giornata del campo, il lavoro, la formazione e la festa. La mattina noi ragazzi arriveremo nelle varie parrocchie che ci ospiteranno con i nostri pulmini e in quel momento inizieremo la raccolta di genere alimentari a lunga conservazione per le varie vie del quartiere della parrocchia che ci ospiterà. Quindi andremo nelle varie case a raccogliere tutti questi prodotti che saranno poi donati alla Caritas parrocchiale. Nel pomeriggio si svolgerà la formazione e con l'aiuto dei nostri missionari combognoni che saranno con noi tutta la settimana tratteremo il tema del campo attraverso delle attività, attraverso delle testimonianze missionarie che si concluderà con la messa nella chiesa della parrocchia. La giornata si concluderà con una festa animata da noi giovani dopo le ore 21 ed sarà un modo per ringraziare la comunità che sarà coinvolta nei nostri canti, balli e testimonianze. Il campo è organizzato in collaborazione con la pastorale giovanile, la Caritas diocesana, l'ufficio diocesano migrantes e i missionari combognani. A guidare in questa avventura gli oltre 40 giovani il nuovo direttore del centro missionario di Fano, Don Marco Rulli. Da più di 40 anni il campo missionario è un'esperienza di bellezza, di crescita, di condivisione e di servizio. Quest'anno è cambiato il direttore, ci sarò io come responsabile dell'ufficio missionario diocesano ma lo stile non cambia. Anche per quest'anno proponiamo a tutti i ragazzi della nostra diocesi un'esperienza che non è soltanto per se stessi ma un'esperienza da vivere per poi portarla a tutti, per far conoscere a tutti quelli che incontreranno la gioia del Vangelo perché tutti siamo missionari.